Allora, devo fare la mia firma, eccoci qua, fra, benissimo, lo imbusto, vediamo se lo imbusto bene, qua dentro c'è la maglietta di Radio Kistis, c'è ovviamente il nostro cofanetto, quest'anno la nostra radio compie 40 anni, cofanetto da paura con le 40 canzoni più belle di sempre degli ultimi 40 anni e come vi ho fatto vedere prima ci sono le firme di tutti gli speaker, perfetto, imbustato, tutto a posto, questo lo spediamo perché sono 500 coppie, forma limitata solamente per Amazon, l'intero ricavato andrà devoluto al Banco Alimentare della Lombardia e grazie a tutto ciò daremo da mangiare a 187 mila bambini, quindi cosa aspettate? State andando a comprare? Non ancora, io vado a comprare, datemi un computer, datemi un telefono! Sono Anna del Banco Alimentare della Lombardia, un grazie di cuore a Radio Kistis, a Universal Music Italia e ad Amazon per questa iniziativa molto importante a sostegno dei bambini che soffrono la fame sul territorio. Grazie a tutti voi anche che parteciperete e soprattutto spero che acquisterete questo CD perché potrete far passare un Natale, un vero Natale anche a tanti bambini che soffrono.